La Corte Europea dei Diritti Umani ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato italiano a causa dell'emissione dell'ILBA responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. Le condanne riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell'impianto e da oltre 200 abitanti di Taranto e di alcuni comuni vicini. Nelle sentenze emisse la CEDU sottolinea che l'Italia è già stata condannata per lo stesso motivo nel 2019 in quanto avrebbe fornito poche informazioni sul piano ambientale. C'è il rischio, scrivono, che il pericolo sussista ancora. Grazie a tutti.